ciao allora oggi vi parlo di un prodotto della essence che mi ha deluso ebbene sì ogni tanto capita questo fondotinta è l'all about matte oil free makeup eccolo qui e dice che ha durata 12 ore long lasting la quantità è un 30 ml e la colorazione al 20 matt nude allora come fondotinta prima questo è la swatch come fondotinta non è malvagio perché effettivamente è un buon colore ha una bella coprenza e si sfuma bene però per essere un oil free e ha soprattutto long lasting è molto corposo e molto cremoso è vero in questo modo è confortevole sulla pelle e poi si stende bene però per la mia pelle mista soprattutto tende a lucidarla davvero molto velocemente e per essere un all about matte oil free makeup no mi lucida molto la pelle long lasting 12 ore no assolutamente perché devo andare a tamponare e ritoccare durante il giorno lo potrei usare solamente in inverno perché se no la pelle davvero ne risente è vero che è confortevole è vero che che l'ho finito alla fine non è che però è per fortuna per lo stato del peggio invernale perché se no avrei dovuto mollarlo lì perché davvero molto confortevole molto comodo sulla pelle si sente bene che è bello e cremoso però troppo troppo corposo e quindi per la mia pelle mista questo proprio non va bene e fatemi sapere se voi l'avete provato e come si trovate io no questo lo bocciamo e spero di essere utile e niente se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale per la prossima sessione e mettete un like a questo così per solidarietà alla prossima ciao